Ciao ragazzi, benvenuti su www.moliradio.tv, questa sera siamo con Angelo Pagliani, titolare di Villa Paraiso. Buonasera a voi, ditemi. Ciao Angelo, allora, cosa ne pensi di questa estate 2014? Siamo partiti alla grande, stasera abbiamo Giulio Berrutti, che è solo la punta di questo grande iceberg, un'ottima programmazione, un grande staff, professionalità, eleganza, cordialità. Questi sono gli ingredienti per la nostra estate. Bene, allora devo dire che ci sono dei buoni propositi. Assolutamente sì, assolutamente sì, se no non sarete qui. Certo, certo. Allora, mi stavi dicendo che questa sera ha proprio uno scoop, cioè Giulio Berrutti. Esattamente, direttamente da Calale 5, un grande autore, una grande persona, l'ho conosciuto personalmente, molto cordiale e quindi ci ha allederato la sua presenza. Quindi questa estate sta partendo alla grande. Sì, sì, abbiamo scaldato i motori nel mese di maggio e adesso siamo in piena carburazione. Ciao, ed eccoci qui di nuovo su www.moliradio.tv, questa sera siamo con Fabrizio della Corte DJ di Villa Paraiso. E innanzitutto grazie di essere qui, voglio salutare tutti gli amici di MOLIRadio.tv. Grazie, grazie. Finalmente, finalmente inizia l'estate. Ci sono 25 gradi, ufficialmente iniziata l'estate di notte. Ci sono le stelle che sono scese dal cielo. Questa sera c'è Giulio Berrutti con noi. Locale Stracolmo inaugura anche la terza pista, Pista Latina, quindi abbiamo veramente il botto di gente. Pensate, un'una e mezza, già penso che ci saranno duemila persone, non lo so. Eh, devo dire che siamo proprio pieni, 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 eh. Sì, penso che sarà un'estate, un'estate veramente calda, un'estate divertente. La musica, ed è quella che riguarda soprattutto me, sarà travolgente. Suoniamo le hit più forti, i dischi più belli, ci sono tre generi musicali. AUS, latino e ovviamente la dance, quello che sono io. Quindi io invito tutti gli amici che si stanno guardando, vi aspettiamo il sabato, Villa Paraisa. Con noi ospite speciali, con noi Giulio Berrutti! Grazie a quanto siete, ciao! No, ragazzi, ovviamente l'ho pagato prima di venire qua, perché mi hai fatto un sacco di complimenti, io ero fuori che ti sentivo, e ovviamente, non lo so, sarà un'occhio al suo, un po' di camera bimbo. Allora Giulio, innanzitutto, grazie ad essere qui, l'abbiamo voluto tutta forza, ed è qui c'è il Monise, la Puglia e l'Abruzzo. Facciamo sentire la voce, lo vedete, all'ora! Allora Giulio, mi hanno detto che a Latina, questo inverno, le donne hanno fatto più casino per te che per Gabriel Gargo. Sei il nuovo idolo italiano! È un modo cassare, quindi non l'ho ascoltato. Di nuovo su www.moliradio.tv, in questo momento siamo con Nicola Masciantonio, direttore di Villa Paraiso. Buonasera, buonasera, direttore di sala. Direttore di sala, esatto. Bene, abbiamo iniziato questa serata con Giulio Berruti, un grande ospite, primo ospite della stagione, che sicuramente è andata grande. Bene, cosa pensi in questi propositi, di quello che ci sarà per questa nuova estate del 2014? Sarà un'estate sicuramente di grandi eventi, di grandi ospiti, ci aspetterà davvero una bella estate insieme, sicuramente si farà una bella estate con grandi numeri. Bene, siamo contenti, allora vi facciamo un in bocca al lupo e salutiamo www.moliradio.tv. Ciao ragazzi, buonasera. In bocca al lupo e cremi. Ciao ragazzi, bentrovati su www.moliradio.tv. In questo momento siamo in compagnia di Vito Principe, direttore artistico dell'area latina di Villa Paraiso e con il suo collaboratore fidato Luca Fiorilli. Con Luca Fiorilli. Bene ragazzi, cosa vi aspettate di questa estate del 2014? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Quest'anno abbiamo fatto una grande scelta di creare e di rinnovare quest'area, l'abbiamo dato un bel nome, Tropical Zone. Abbiamo bellissime idee per questa Summer 2014, di dare un po' uno smalto a questo contesto un po' dimenticato negli anni precedenti. I progetti sono importanti, novità sicuramente, già dai rinnovamenti fatti in sala. Abbiamo uno staff tutto nuovo, nuove collaborazioni. Beh, devo dire, siamo partiti già abbastanza bene, quindi che dire, Summer 2014, Villa Paraiso. Bene, siamo contenti. Invece tu Luca cosa ci dici? Sicuramente sarà una bellissima stagione, anche perché è uno staff grandissimo, bellissimo, buona musica come potete sentire e sicuramente faremo una bella stagione. Bene ragazzi, allora noi vi ringraziamo per questa collaborazione di questa sera, buona serata e buona estate. A chi se baira, latino. Bambini...